eccoci qua eccoci qui di nuovo con elder ring prendiamo questa seconda run e finora sta andando tutto abbastanza liscio vedremo un po più avanti vedremo un po più avanti come andranno le cose che arriva danno l'abbiamo fatto fuori praticamente in 20 secondi ma si poverino non c'è capito nulla e siamo arrivati a villavulcano però io comunque voglio fare delle modifiche di fare degli esperimenti allora no 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 Grazie. Allora, andiamo. Allora, andiamo. Allora, vediamo la differenza tra questi due. L'unico modo per capirlo è metterli insieme. Uno dovrebbe essere una schivata più ampia e l'altro meno ampia. Allora, andiamo. Andiamo alla distanza. Allora, partendo da qui, arrivo qui. Invece con l'altro è più ridotta. La mia idea era di fare una roba di questo tipo. E' di sfruttare una meccanica. Io sfrutto queste schivate. Il nemico mi sta per attaccare. Faccio così. E poi riprende a schivare. Solo che non so quale mi conviene di più fra le due. Uno mi attacca e schiva così. Questa è una schivata molto più grossa. Non so. Proviamo sul campo, dai. Allora, non so. va morto eh ok no quella più estesa è meglio quella più estesa è meglio perché i nemici grossi quella più piccola non ci combiniamo granché allora adesso proviamo l'estesa e questa ti prego non dare a scatti questa impostazione lo metto lui ok 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 non c'è nulla ok proviamo prima recuperiamo il mandor ok 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 beh devo imparare a gestirla meglio questa cosa non è male non è male non è male ok no non posso mettere una terza arma se no lo switch è un casino proviamo proviamo si si no la schivata larga è meglio ok 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 no riproviamo mi drogiamo guarda che fanle no comunque non funziona quando finisco in blu vabbè una robetta la passe vabbè proveremo così ok adesso mettiamo il simpugo all'altra non Perfetto. Ok, allora proveremo questo assetto. Non è male. Quel 48, perché ce l'avevo? Per questa? No. Chi richiedeva 48 qua? Ah, questa richiede 48. Una destrezza bella. Alla destrezza bella. Allora, adesso usiamo questo assetto, poi vediamo. Allora... 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 C'è chi? C'è chi? E qu'è l'Helvulcane? Spero que tu comprends... Eh, per far as you understand what you're saying. Però non, before you can... This blasphemous path leads only to before you can... Un placer to meet you. Wraith, I am Raya, the scout. Under Lee. Okay. Eh, Pacis perché non l'ho ancora scoperto. Se no, dovrebbe esserci anche lui. Vabbè. Il primo obiettivo dov'è che stava? In queste parti? Ok. Eh, ma prima di lui devo andare a cercare un'altra cosa. No, ma in queste parti c'è un bastardo. Vediamo esattamente dove... Ma principalmente dovrebbe stare tipo da queste parti. Ce l'ho capito bene. Tipo qua. Ok, andiamo a cercarlo. oi... non c'è nulla cosa c'è Hmm Grazie a tutti Qui c'è un boss, se non sbaglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E' una cosa un po' meccanica E' un po' meccanica E' un po' meccanica E' un po' meccanica ho timore che forse te lo lasciar perdere questa idea non lo so che pane perché ti muovi male vai fammi scendere ho capito non ce l'ho prima a fare così guarda allora vediamo io devo andare di qua prima di qua mi sa che non si può non si può non si può non sarebbe quella non si può allora da qui la salita ma super di qua ci si può provare ci si può provare ci si può provare ok di qua devo andare tecnicamente di qua non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi fanno andare dalla parte opposta. Dove ho affrontato a quel boss? Dove ho affrontato. Dove ho affrontato. Dove ho affrontato. Andiamo a proseguire di qua. La direzione dovrebbe essere giusta. Buono che forse ci siamo. Olè, ce l'abbiamo fatta. No, ma che fai? Volevo togliere una spunta. Oh, l'ho messa proprio nel punto preciso. Madonna. Madonna. Allora, a parte che tu mi fai farla sparire basta che ci vado solo. Ecco. Vabbè. Vabbè. Ok, ora tecnicamente dovrei tornare da lei. Era qui. Sì. Vabbè. 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 Grazie. Grazie. Oh, questo mi piace. Tu devi avere una piazza. E' questo il mondo? Molto bene. E' sicuro di incorporarlo in una vostra lezione. Non perdere questo spirito inquisitivo. Prego la vostra ajuda. Il Mastro Lussat è un altro trovato in Glipp. E come il Mastro Azur, è stato evitato da l'account. Come si chiama Glipp. E vediamo qui. Il Mastro Lussat. Allora, ce l'ho, 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 ok. Allora, andiamo a cercare questo, no? Allora, vediamo qua cosa tocca fare. Cioè, questo era il punto dove dovevo attivare un focolaio. Eh sì. Eh sì, era qui. Ok. Tra l'altro ho fatto anche delle modifiche un po' al gameplay, aggiungendo una cenere che mi fa fare questo, guarda, eh. Vedi? Così, schivare i nemici grossi è una paga. Ecco, magari switcho con quest'altra arma, faccio i pendenti potenti e poi switcho di nuovo per la schivata. Allora, dov'è? Eh, bisogna andare qui. Allora, cominciare con il Sopra. Sopra, bisogna vedere. Da qui? Eh, da qui dovrebbe andare. Oh, oh. Cioè, era questo il punto. Eccolo qua. Dovrebbe essere quello laggiù, credo. Eh sì. E lì dovrebbe esserci il boss da fare. L'oggetto da Obris, non mi ricordo. Andiamo a vedere di che si tratta. Mono, non mi ricordo. Oh, yes. L'entrata, eccola Ah, che poi ho scoperto una cosa che non ha molto senso Praticamente queste ceneri Che tu puoi usarle quando sei in combattimento Quando attraversi la nebbia, no? Però contro i nemici che incontri in giro Non si attivano Ma stranamente se una di queste ceneri le metti qui In questo scomparto qua Tipo questa Te la fa attivare anche se incontri boss in giro Però Perché non dovrebbe attivarsi direttamente qui? Sono più o meno la stessa cosa È strana sta roba Però ok Funziona, quindi pazienza Sì, vabbè, sarà un difetto del gioco Magari prima o poi se ne accolgono e lo risolvono Però meglio di niente Qui ce ne stanno due se non sbaglio Eh sì Me lo ricordavo Allora, vediamo se mi fa che pare E il boss ci saluta E dentro cosa c'è? Il bastone di centipela di lusso Sì, questo già ce l'avevo Non lo ricordo Perfetto Allora, adesso vediamo un po' dove tocca andare Ah, qui Qui c'è un dungeon Sì, è vero Con il muro finto Parete illusorio Sì, è vero Me lo ricordo Ah, quindi era lì che stava quello stregone Eh, non l'avevo trovato nella precedente run Vediamo se stavolta lo troviamo Allora, la parete illusoria Sta qua Dai, non ti incastrare quello qui Eh, vabbè Le mie schivate tattiche, ovviamente Oh, che dobbiamo fa? Alleluia Allora, la parete Eh, quasi Olè A posto E ora cerchiamo lo stregone Che tipo di dungeon era questo? No, era quello con i magheti Già intravedo qualcosa laggiù Questo mi potrebbe tornare utile Allora Tutto chiuso qua Tra pareti illusorie No, no, di qua No, no, di qua No, no, di qua Ritorniamo in via Eh sì, ci deve essere un'altra parete Come sentire i rumori Eccola Eccola Vabbè, ma così è scontato Dai, vado dritto Che non c'era un'altra Allora 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 Devo stare attento Che se casco male Allora Hong Kong Eccolo Qui Un Qu'è Che Che Spir ANDREW qualcosa, invece una marica dovremmo essere vicino al boss, o al massimo a metà dungeon. Cristalli everywhere, proprio. Un droid o qualcosa, siamo arrivati, ok? Il mago non l'abbiamo ancora trovato, vabbè, facciamo prima il boss e poi penseremo al mago. Non ce n'era un'altra, l'ho ammazzata. Allora, prima di andare cos'è mai ci pompiamo. Ah, qui ce ne erano tre. Questo pezzo era un po' una rottura, dico io, me lo ricordo. L'arma che va non è manco giusta qua, però vabbè. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Ok, tecnicamente il dungeon è finito. Però io dovevo trovare qualcuno. Quindi è finito per modo di dire. Vediamo un po' di trovare questo bastardo. Ma che cazzo è successo? No, l'amagrescenza, è vero. Mi ero scordato della macrescenza. Vabbè, comunque devo andare in un punto abbastanza in basso. Quindi ci mettiamo il talismano del gatto. Non c'è, non c'è. No. Dov'è? Non è questo. È questo, sì. Ok. Andiamoci a riprendere le rune. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Oh, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Allora, vediamo un po' il punto preciso. ma andare sopra una lastra e buttarmi giù però devo trovare la lastra giusta questa lastra non è giusta non finisce bene sarà qui? ah bello proprio a te cercavo guarda non ti palla che non sei altro poteva andarmi peggio ah meno male vediamo se questa è la strada giusta bastardo cioè non era quello no merda ok sono sopravvissuto grazie al gatto altrimenti ero morto aspetta che forse sono finito nel posto giusto vedo qualcosa da giù forse ci siamo eh sì è incredibile cioè sono caduto in un punto randomico e ho trovato il posto che cercavo questa è fortuna ragazzi eccolo qua questa è fortuna e vai allora che ci racconti bello mio eh non si è ridotto bene è una brutta scena ma sei appena morto o sei vivo questo è un bel set così quasi poi ci torno e lo faccio fuori sì quando finisco la missione lo faccio se mi ricordo come tornarci ovviamente vabbè quindi ci siamo riusciti sì perfetto possiamo tornare da lei allora qua sì che fortuna però sì My apprentice I have a fate The form you see before you is merely a projection My body lies elsewhere But my body is on the weeping peninsula At the southern tip of the Imprisoned in the ruins just down from the church Can you make the journey to me I have something that I can own Il mio corpo è imprisomato, e tu mi hai qualcosa. Che potrebbe essere che avevo il mio corpo? Sono davvero piaciuta di avere voi, questo è un po' un pollo. Questo ci ha dato un passo più lungo, i corpi dei maestri, Azur e Lussat, se non potrebbero fare queste cose. Ok. e anche questo è fatto andare l'idea di questo, sì Dai! Ma perché? Avevo anche la cosa del gatto! Che palle! Vabbè lo levo, non mi serve No, 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 no! Grazie a tutti. Non ho avvenenato? Nel dubbio. Ecco, ci sa mai. Una persona può arrivare per la mia vita. E così... ...myself. Questa è la mia... ... Che c'è? C'è un po' di prender. La stanno lì. E dove passi da checkpoint? Tecnicamente non mi manca molto per finire questa quest. La stanno lì. La stanno lì. La stanno lì. Trattati tutto quello che guardi. Non è successo nulla qui. Eccolo lì, rompi palle di tutto Attento Eccolo 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 Ecco Eccolo 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 Mi ha dato la sua maschera, vediamo cosa fa, incremento intelligenza arcana, capisco. Quindi è finita, questa è la conclusione della quest, devo parlare con qualcuno, il tizio non c'è, no no, forse il tizio è tornato alla base. Ah, eccolo qua. Uh, grazie. Ottimo. Adesso, vediamo un po' che succede se faccio fuori quello che ho incontrato prima, sempre se lo ritroviamo. Vediamo se riusciamo ad avere la sua skin, la sua corazza. Beh, è particolare, dai. Vediamo un po' che succede se faccio fuori. Devo trovare il punto preciso dove sono ca', devo trovare. Non lo avevo manco attivato. Eh sì, me l'ho completamente dimenticato di attivarlo. Quale sarà il punto dove ero caduto? Penso che è successo in modo casuale. E' una bella domanda. Non c'era di cosa? Non c'è. forse si eh si è qui andiamo un po' si va madonna ma di che cazzare la sei fa? eh ma se è un cadaver è molto difficile niente vabbè pazienza allora riprendiamo intanto questa questa la possiamo levare ma è finita eh si questa qua è tormenta andiamo a fare questo e andiamo a fare questo e e e Grazie a tutti. 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 Ok. Questa volta non lo facciamo morire. Dovevo scendere ma con attenzione, altrimenti qua ci credo. Grazie a tutti. Qui c'era un invasore. Oh no. Grazie a tutti. Oh no. Allora... 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 passaggio sotterraneo. Da qui... sì, ho capito. Ora me lo ricordo. Comunque se la dare schivate mi sa che l'abbandono. Ma perché comunque non è un switch rapido. Grazie a tutti. 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 Ok. Ah, quasi va un esplodere. Non mi ricordavo. Non mi ricordavo. Non mi ricordavo. Non mi ricordavo. Ok. Ok. Non mi ricordavo. Ok. 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 Grazie a tutti. E ora qui c'è un tizio da invadere. Deve essere qui vicino, che sembra. Vabbè, intanto accendiamo il palovolo. Dai, sei lo bagge. Mi dico, ma è incredibile sta cosa. Ancora il bug del palovolo. Anta, lo detesto. Aggiornamenti su aggiornamenti, eppure i problemi e i bug continuano ad esserci. Mi chiedo a cosa aggiornano. Ho posto un titolo fatto da un gruppetto di scemi. Ci sta dietro una casa qui. E' da un bel po' che fa videogiochi. Prova bene. Oddio, Dragot. Rift in peace. Anche il grande Dragot ci saluta. Speracciamoci di un po' di doppioni, ma... Adesso me ne sono fregato di potenziarli. Adesso mi sa che sto in giro, quasi quasi... Adesso mi sa che non potete... Adesso mi sa che non potete... Dopo... ... Vice città di un gruppo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 scappato è cagone e gli stavo a fare il culo è intanto lo rincontro qua com'è che si saliva qui solo da qui allora andiamo qui che se non sbaglio non sono obbligato a farlo però me lo ricordo e poi andiamo a fare sedere al draghetto questa katana è comunque qualcosa di davvero assurdo una volta che te la fai sono dolori di panza per tutti ma comunque una buona parte visto che la gran parte degli avversari soffrono il sanguinamento che c'è qua? questa etter unica torna sempre utile ok 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 addio dai di nuovo non ci posso credere un'altra volta il bug del faloc ma dai ma io non ci posso credere ma quante volte devo riavviarlo ma basta questo per i soldi ah basta questo ok comunque voglio potenziarla quant'è che pesa? pesa eh ma l'altra che avevo non l'avevo potenziata me ne ero fregato fammi controllare si me ne ero fregato no no l'avevo tenso l'avevo tenso ci sta ma questa qui è morta o è ancora vivo? sempre buona sempre buona so Sì, è vero. il potere della Golden Order ti sono conosciuto con un uomo, il piteoso figlio, c'era un figlio fondamentale in tempi non lascia l'esercizio non lascia l'esercizio era un uomo non lo vedo come il ha take well that's how you end up when grace is sullied oh ah ho deciso di riuscizio l'esercizio l'esercizio sono in search of a nobel chiamata chiamata l'esercizio per chiamata non lo vedete per qualche tempo se c'è alcune incantazioni c'è alcune ma oggi non 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 puoi anche andare a farti fatte voi vabbè tu sei un premuto mi raccomando andiamo da Fai provare No Va bene così Dai, il momento dell'abbraccino Momento coccoloso Sì, il momento dell'abbraccino Sì, è stato molto caldo Mi amore, potrei poter trovare il proprietario di questo dagger? E... Un'unica persona mi ha dato, è una cosa molto preciosa è così che voglio che l'ordine originale abbia tornato voglio che trovare l'ordine è molto precioso allora buona giornata Allora, però l'abbiamo ucciso, andiamo a farci il drago, il drago minchione. Grazie a tutti. 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 Come cazzo sei? Vabbè, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che si fa? Andiamo lì? Massimo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. C'è un boss. C'è un boss. C'è un boss pure qui. No, forse... no, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Te li fai pagare i dardi, eh? piccolo bastardo. No, questo sta ancora qui. Non l'ho ancora utilizzato. Bene. Allora, adesso andiamo di qua. Allora, ricarichiamoci. Cambiamo look. Allora, che ci metto? Allora, che ci metto? bella. Non sono una matrile estonica. Allora, che ci metto? Andiamo così. Un po' 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 un po'. Non so. Grazie a tutti. Ok, allora volendo possiamo tenerci quella. Ok, allora. Ok, allora. Ok. 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 Grazie a tutti. Dovrebbe essere qui vicino. Eccolo. Dovrebbe essere qui. 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 Beh sì dai, per adesso lasciamo la musica. Alla prossima. 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 Eh, però qua Con questo set non ci siamo Su qua troppo Troppo poco difensivo Leggero La difesa è un optional Eh, non va bene Allora Se rimetto il mio preferito Guarda Se rimetto l'altro è troppo pesante Eh, immaginavo Fa troll No, questo no Assolutamente no No, va bene Lasciamo un secondo Allora Siamo nel posto dove c'è il famoso arco nero Che ho missato in precedenza Quindi adesso lo recuperiamo Allora Questa era la visuale, no? Sì Allora, vediamo un po' di ritrovar Allora Grazie. Vediamo un po'. Deve essere quello, non so. Eccolo qua. E vai. Il bellissimo arco nero. Vediamo. 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 Minchia. Che velocità, ma è fantastico. Minchia. Eh beh. Mi piazza, mi piazza. Perfetto. Adesso, però, voglio tornare alla base del potenziale. Ammazza com'è veloce. Tremendo questo. Facciamo un altro di questi. No possiamo anche usarlo. Va bene. No, 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 no. 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 No, non mi pagano. Scusate. Poi. No. No, no. 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 Questa cosa che è rapida è fantastica Mi piace Ok, torniamo qui Ok, torniamo qui La posta Ok, torniamo qui 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 Questa è chiusa questa Poi tirerò quella leva Ok, torniamo qui 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 no no cazzo Che cavolo Non si vede niente Che cazzo vuoi tu Bastardo Ma questo da dove spunta Ma dove spunta quel cornuto Cioè sto affrontando quel bestione E arriva quel tizio Assurdo Eh mi ha fregato Mi ha proprio fregato quello là Dov'è che sta Sta qui sotto Vabbè non cazzo Vabbè non cazzo Ma prima sistemiamo quel cornuto Mi fa di danni Putta che roba Mi ha fatto danni enormi E' aggressivo da fare schino Questo tizio Eh devo dire che Il miglioramento della seconda run Non si sente su quel tizio Sì Bastardo E' a posto Eh bisogna essere rapidi Con quel gente del genere Perché se no Non ti fanno respirare Ok Allora richiamaci a quell'altro straccio Che Che E' Che 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 Perché ti allontani? Guarda che sto con noi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No, non è di qua che devo andare Era sopra l'albero Grazie a tutti No, non è di qua che devo andare Non credo funzioni ma proviamoci Vabbè ci ho provato Provare non costa niente Non è di qua che devo andare Altro boss Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Lunar princess Rani Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 Bye 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 Grazie a tutti 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 Bell'ambientino Grazie a tutti 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 Wow Grazie a tutti 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 Parla Grazie a tutti 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 Ok E qui è il momento a braccino Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti